Il covid-19 inizia a colpire anche in Italia e in Veneto ed è allarme. Ci sono due casi sospetti di persone contagiate proprio a Padova. Si tratta di due uomini anziani padovani, entrambi residenti a Voe Uganio, in provincia della città del Santo. I pazienti sono stati ricoverati nel reparto di malattie infettive dell'azienda ospedaliera della città. Il tampone è già risultato positivo e è stato inviato per riscontri all'Istituto Spallanzani di Roma. Il governatore del Veneto Luca Zai ha già sentito il commissario Angelo Borrelli e nelle prossime ore si troverà nella sede dell'unità di crisi per il Veneto in via degli Scrovegni a Padova. Fino a questo momento in regione erano stati ricoverati nei reparti ospedalieri di malattie infettive nove casi sospetti di virus cinese. riferiti a soggetti che presentavano lieve sintomatologia respiratoria e che rientravano da area a rischio della Cina. Tutti però sono risultati negativi ai test di laboratorio. Risultano invece 77 i bambini e adulti in isolamento fiduciario. Per noi l'allerta è massima e ci stiamo preparando a misure drastiche per un'eventuale emergenza più importante. Ha inoltre dichiarato il presidente del Veneto Luca Zai in relazione all'evolversi della situazione legata al coronavirus. È stata istituita una task force regionale per adottare le misure necessarie di controllo e prevenzione dell'epidemia. Il sindaco Sergio Giordani invita i cittadini ad informarsi solo tramite i canali ufficiali, sito ULS e sito della Regione Veneto, nonché a mantenere la calma e a collaborare attivamente secondo le indicazioni fornite. Il sindaco assicura inoltre che il sistema di stretta sorveglianza a cascata è attivato ed è stato ben collaudato con l'epidemia SARS.